È il 196esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Camillo. Il nome ha origine etrusca e significa sacerdote. Il numero porta fortuna è il 5, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 14 luglio del 1902, il campanile di San Marco a Venezia, risalente al X secolo, crolla improvvisamente a causa di alcuni interventi sul paramento murario esterno effettuati in maniera improvvida. Verrà ricostruito com'era, dov'era. Il restauro si concluderà nel 1912. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 14 luglio ricordiamo il regista svedese Ingmar Bergman e il comico Renato Pozzetto. La citazione del giorno. La virtù affascina, ma c'è sempre in noi la speranza di corromperla. Leo Longanesi. Dice il saggio. La vittoria ha cento padri, ma la sconfitta è sempre orfana. Il bel paese. Nel cuore del parco della Maiella, in provincia di Chieti, l'ama dei Peligni è un borgo medievale con un ricco patrimonio storico. Ancora più affascinante, però, è la natura che lo circonda. Su tutto, degne di nota, sono le Grotte del Cavallone, tra le più alte d'Europa e conosciute anche come le Grotte della Figlia di Iorio. Le Grotte del Cavallone, esplorate già dal 1666, sono state valorizzate a fini turistici alla fine dell'Ottocento e oggi sono visitabili da giugno a settembre. Grazie a tutti.